Com'è andata questa serata? Molto bene perché la Rossini è Pesaro e quindi noi siamo di Pesaro e di conseguenza dobbiamo festeggiare non solo la Rossini ma anche Pesaro capitale della cultura. È una serata bella stare insieme a tutti i pesaresi, 2024 pesaresi tutti insieme è un'occasione unica. È andata benissimo, è stata una bella serata, è una delle prime volte che io partecipo però mi ha lasciato soddisfatto. Sono felice anche perché vedo una grande tranquillità, partecipazione e quindi una cosa più bella di così non poteva essere, bellissimo, sono felice. La pizza com'era? Buona, veramente io non la mangio mai quella invece stasera l'ho mangiata tutta e mi è piaciuta. Molto bella, molto bella, ci voleva per noi pesaresi, la Rossini poi è storia quindi siamo molto divertiti. La pizza com'era? Era buona, buona, veloce, abbiamo mangiato tutti, abbiamo bevuto tutti quindi molto buona. Com'è stata questa esperienza? È stata positiva perché l'organizzazione è stata veramente molto buona, non ci sono state file, è stata veramente oltre le aspettative sicuramente. Bellissimo, secondo me è un'organizzazione fantastica, ho guardato l'orologio quando hanno urlato la 24esima pizza, erano le 8.50, io neanche al ristorante, quindi direi perfetto. Com'era la pizza? Buonissima, buona, buona, non mi aspettavo niente di più, buonissima, ci è piaciuta, poi la Rossini è per forza buona. La pizza era ottima, l'ambiente è ottimo, i compagni del tavolo perfetti, tutto bene. Anche le tempistiche, eccellenti. Eccellenti, la pizza è arrivata subito, niente da dire. Signora, com'è stata questa esperienza? Bellissima, come si prevedeva, molto bene. La pizza com'è stata? La pizza buonissima, la Rossini speciale. È un'esperienza promossa e da ripetere magari in futuro. Ah, quest'altro anno aspettiamo cose grandi per il 2024. Grazie. Grazie.